guarda 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 oh oh grazie ma guarda che profumo è anche calda dammi quel coltello grazie 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 mamma scotta anche ci vuole una porchetta c'è dentro vuoi sapere cosa c'è dentro o vuoi indovinarlo allora c'è dentro le zucchine dell'orto le melanzane del davide la scamorza la pancetta i wuster il parmigiano e le uova c'è praticamente tutta la spesa ci ho messo è buona veramente cosa hai mangiato vedo fuori del latte e poi dei cereali chissà cosa hai mangiato a luigi ma te l'ho detto che la facevo buona è buona non ho fame buona notizia buona notizia